Vabbè, avete sentito cosa ha detto Gianfranco Micichè, 20 anni di governo, è vero, perché lui è stato un fidatissimo di Berlusconi, aveva iniziato addirittura la sua carriera come se non sbaglio ha detto alla pubblicità delle prime fasi di Canale 5, poi è rimasto sempre un fedelissimo e ha svolto compiti di governo. Non lo so come va a finire, certo bisognerebbe sapere chi può mettere le cimici nelle macchine di amministratori pubblici, come in questo caso il Presidente dell'Assemblea regionale. Dice, ma è indagato, d'accordo, però è sempre una figura istituzionale su questo, bisogna avere un po' di attenzione. Cambiamo argomento, allora ieri il nostro Nello Di Pasquale ha detto, ma questa è la ragione, che fanno? C'è la sanità fa schifo, l'ha detto Gianfranco, l'ha detto Nello Di Pasquale. Allora io oggi ho ricevuto un post di un signore, si chiama Occhi Pinti, lo conoscono in molti con il suo soprannome, perché ha un soprannome che praticamente richiama un personaggio, un cantante e quindi tutti lo chiamavano così proprio perché ci assomigliava. Ma io non lo voglio dire per privacy, come si suol dire, però lui ha fatto un post nel quale dice ieri di sentirsi molto male e di essere andato in ospedale. In quel momento, quando è andato lui con grosse difficoltà per deglutire, problemi vari, davanti a lui c'erano 40 persone. Ha avuto problemi, ha dovuto invocare che gli facessero qualche cosa, gli hanno fatto una flebo, lo hanno tenuto seduto lì al pronto soccorso e quindi lui ha detto, sono particolarmente spaventato e ho un brutto presentimento. Io spero che l'amico Occhi Pinti si sia in qualche modo rimesso in sesto, però questa storia è una storia che conferma i grandissimi problemi che abbiamo nella sanità. L'ho già detto ieri e l'altro ieri sulla questione dell'urologia, sulla questione, pensate a Calcagiro, non funziona più l'emodinamica. Ma l'emodinamica vuol dire scherzare con la vita delle persone. Oggi, grazie a Dio, con questi sistemi molti infarti vengono risolti in pochi minuti, ma lì non hanno più l'emodinamica. A Ragusa fortunatamente funziona, anzi l'altro giorno il dottore Nicosia è stato protagonista di un convegno a Poggio del Sole, io gli faccio i complimenti, qualche giorno vorremmo averle qui. Ma perché vi do questa notizia? Perché pensate che la regione siciliana, sapete cosa ha fatto? Ha confermato tutti i commissari delle ASP. Tutti e 14, 15 quanti sono? Fino al 31 di ottobre, qui che scadevano il 30 giugno. Quindi i commissari delle ASP a Grigie, tutte le province, l'AMAS Calibaldi, l'azienda ospedaliera Cannizzaro, l'azienda Papardo, l'IRCS Bonino Puleo di Messina, l'AMAS, tutte le aziende, restano confermati anche gli incarichi direttore sanitario e direttore amministrativo per la medesima durata, quella dei commissari straordinari. Sapete cosa mi fa impressione? Che l'assessore Bono dice intendiamo dare continuità gestionale e funzionale alle aziende, cazzarola! Cioè tu invece di fare in modo che si arrivi a mettere effettivamente il manager che ti gestisce dell'azienda per 4-5 anni, tu mi dici che hai preferito dare continuità al commissario che già in tutte le occasioni in cui ci siamo andati, non io ma ci è andato il sindaco, ci sono andati, sai cosa ha detto? Vabbè ma io sono arrivato ora, vedo cosa posso fare, cerco di fare, ma che volete da me? Ma questo è il fatto. Quindi l'assessore Volo insieme al Presidente Schifari, sapete che cosa mi dice? Mi dice no, però io voglio dargli continuità, cioè a chi non riesce a fare le cose, ma perché è un commissario, perché non può fare una programmazione come si deve? Io gli confermo, quindi non è possibile pensare al fatto che sarebbe il caso di dare una guardata a queste gradatorie e mandare i manager definitivi come hanno fatto in altre regioni, ricordate a Liguo, a Liguo se ne è andato a Frosinone a fare il manager, perché qua da noi non si può fare, da noi è tutto precario e poi spendiamo un mare di soldi più delle altre regioni e siamo molto peggio delle altre regioni e nessuno fa niente. Cioè Volo ci dice ho voluto dare continuità al commissario, ma si può dare continuità? È una contraddizione nelle parole, è un paradosso, dare continuità al commissario è un paradosso. Ma come? Vabbè, andiamo a su carichista, che cosa vi posso dire? Non ci sono dubbi. Vi faccio vedere un servizio su una iniziativa che si è svolta a Palermo oggi. Due giorni formativi per 58 aziende che è stato organizzato dal Consorcio Trasporti Siciliani. In pratica è una due giorni di formazioni fino a oggi che si sono tenuti nella sede di Sicindustria a Palermo, perché in pratica, poi parleremo proprio dei Forconi, hanno deciso tutte queste aziende di costituire un Consorcio Trasporti Siciliano che conta su 58 imprese, importante, del trasporto privato su gomma in Sicilia e di queste 50 aderiscono all'ANAV. L'iniziativa è organizzata dallo stesso Consorcio che si avvale della collaborazione tecnico-giuridica di uno studio Malena Associati, eccetera, eccetera. In pratica si è parlato di affidamento dei contratti pubblici, del nuovo codice degli appalti, delle varie tipologie di gara, degli attempiamenti digitali necessari ad affrontare una gara telematica. Vi sembra una cosa da niente? Invece no. È una cosa difficilissima, ma anche per fare l'iscrizione alle Prologue, ormai è tutto telematico, è diventata una cosa molto difficile. Noi abbiamo sentito il Presidente Antonio Graffagnini che è Presidente del CTSI e comunque fa parte dell'ANAV, proprio per spiegarci cosa si è fatto in questo incontro e qual è la finalità, perché è importante capire che oggi bisogna agire molto su bandi e sapere utilizzare il metodo digitale. Sentiamo Graffagnini.